Ueeh, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, Patch Notes 9.21, un aggiornamento davvero interessantissimo che addirittura ha un downtime dei server. Andiamo subito ragazzi nel dettaglio e come vi avevo anticipato ragazzi, c'è l'ingresso del nuovo lanciagranate di prossimità. Descrizione, non è un ferro di cavallo o una bomba, ma ci accontenteremo ragazzi. Il nuovo lanciagranate di prossimità spara in una traiettoria a parabola, un proiettile esplosivo rimbalzante, ok? Che esploda in prossimità di un avversario, quindi ragazzi, tanta tanta roba. Sarà in due rarità, epico e leggendario, e si troverà ovviamente nei forzieri, nei drop, nel lutaterra, insomma come al solito. Sarà un'arma semiautomatica, ovviamente utilizza i rocket come munizioni, il raggio di esplosione sarà 300, praticamente il 60% della larghezza di una unità ragazzi. Spara circa a 250 unità per quanto riguarda la distanza ragazzi. Il danno da esplosione, 67 nella versione epica, 70 nella leggendaria, e invece all'ambiente, quindi alle strutture, 131, 138, 2,8 i secondi per la ricarica. E i proiettili esplodono automaticamente dopo 10 secondi o se si sono quasi fermati, quindi non vedo l'ora di provarlo ovviamente insieme. Modifiche anche per lo scudo ragazzi, aumentato il drop rate da 11,3 a 12,9 per lo scudo grande. Per lo scudo piccolo invece ragazzi, di nuovo un altro aumento da 16,95 a 18,13% in modo da trovarne molti di più ragazzi. Modifiche ai fucili pesanti, aumentata finalmente la possibilità di trovare i fucili pesanti da 8,50 a 9,77. E invece il fucile da fanteria, aumentato da 0,067 a 0,10 e da 0,41 a 0,65 in base alle rarità. Modifiche anche alla torretta ragazzi, ridotta la disponibilità di trovare la torretta da 0,59 a 0,46%. In versione tempesta invece ragazzi, ci ricordano che infligge 5 danni al secondo. In versione tempesta modificato per infliggere un danno costante ragazzi, quindi danni sempre per in versione tempesta ragazzi. Questa modifica però dicono che potrebbe non essere immediatamente presente in questo update. Ma arriva ovviamente ragazzi un'altra grande novità, scatto dell'orda, quella di cui vi avevo parlato ragazzi. Disponibile questa nuova LTM da giocare in squad, quindi senza gli avversari, ma solo con un team di amici. Tanta tanta roba perché ragazzi ci sono le sfide che regaleranno una montagna di punti esperienza, ma anche una copertura per armi e veicoli e un wallpaper, quindi una schermata di caricamento per ricordarci nel futuro di questa nuova LTM. Modifiche anche ragazzi per la modalità creativa, il lanciagranate arriva anche ovviamente in creativa e ci sono nuovi prefabbricati. La galleria garage a bordo strada, il pavimento erba e fango, il pavimento foresta ed erva, erba e foresta, sabbia e pietra e gli oggetti dinosauro. Modifiche anche ragazzi per Save the World, anzi aggiornamenti, arriva il Plasmatron 9000, il Propomatey che noi l'abbiamo chiamato fino adesso. Sciogli lingua, riesce a ripetere, colpi perforanti al plasma più velocemente che puoi. Colpi perforanti al plasma, colpi perforanti al plasma, colpi perforanti al plasma, sì ce la faccio. Arriva ragazzi nella modalità Save the World e arrivano anche le sfide conto alla rovescia ragazzi con tanto di standardo. Nuove missioni come vi stavo dicendo per i wargames e invece per quanto riguarda in generale, tra l'altro Plasmatron 9000 ragazzi lo troverete nel negozio di Save the World. Per quanto riguarda i social ragazzi invece hanno aggiunto dei messaggi pop up nel menu principale per aiutare i giocatori a capire quando funziona la chat vocale, soprattutto per Xbox Live. E tra l'altro hanno sistemato anche dei bug minori per quanto riguarda audio e grafica per tutti. Beh ragazzi, Patch Notes, scaricatela, godiamocela insieme, noi siamo in live e ci vediamo poi anche questo pomeriggio, ma adesso andiamo avanti. Ciao! E non parte mai l'outro. Ma porca miseria. E non parte mai l'outro. Grazie a tutti.